Una domanda fondamentale. Chi è Gesù? Nel Vangelo di questa domenica Pietro dà la risposta giusta. Eh sì, perché quella che Pietro dà a Gesù è la risposta giusta. Chi è Gesù? Tu sei il Cristo, il figlio di Dio, sei il Messia, sei il figlio di Dio venuto nel mondo per salvarci. E allora Gesù dà a Pietro il potere, dà alla Chiesa nel corso dei secoli il potere di portare questa verità, questo messaggio, questa risposta giusta agli uomini, al cuore di ogni uomo. E allora la domanda che Gesù alla fine del Vangelo rivolge a ciascuno di noi. Chi sono io per te? Chi è per te Gesù? È davvero il Messia? È davvero il figlio di Dio? È davvero il Salvatore? Qual è la risposta della tua vita? Buona settimana! Buona settimana!